eccezionale, Tasty! di un po', ma non ti fermi mai vedete, una pausa la farei se avessi un bel bicchiere di vino poi ti cedono le gambe e dici solo cose strambe e tu come lo sai? dai, Tasty, raccontati come vedevi tutto doppio ma sentite un po' cosa succede a chi beve troppo grazie a tutti